Ciao amici di Automobile.it, sembra proprio che le case europee si stiano dando una bella svegliata in tema di elettrico venendo per una volta incontro a una semplice richiesta dai noi clienti vogliamo modelli a batteria però economici Beh, pare l'abbiano capito finalmente e in Francia c'è un gran fermento in questi tempi Poche settimane fa abbiamo visto la Citroen EC3, ora il turno di Renault che ha appena tolto i veli a un'inedita full electric il suo nome è leggenda, cioè volevo dire legend, vabbè Come al solito vi chiedo di mettere un bel mi piace al video, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina perché sono in arrivo davvero tanti in tanti contenuti a tema elettrico e non solo, e mica vorrete perderli insomma Comunque, premessa, il Capital Markets Day organizzato dal gruppo Renault non è stato solo l'occasione per mostrare al mondo il nuovo modello ma anche per rendere noti i futuri progetti Ampere Ampere? Sì, ma che c'entra la misura dell'intensità della corrente elettrica con le auto? Beh, in realtà questo è il nome della nuova divisione per le auto elettriche e i software operativa dal primo novembre alla quale partecipano anche Nissan, Mitsubishi e Qualcomm e gli obiettivi sono piuttosto modesti Da qui al 2031 è previsto l'arrivo di 7 nuovi modelli con un target di 1 milione di veicoli venduti e di 25 miliardi di euro fatturati Ambiziosi questi piani, ma stiamo a vedere se il mercato li premierà Due, le piattaforme su cui verranno realizzate le nuove vetture AMPR Medium per il segmento C e AMPR Small per i segmenti inferiori E proprio quest'ultima è quella che ci interessa di più perché è l'architettura sulla quale viene realizzata la protagonista nel nostro video di oggi Nella nostra introduzione l'ho definita legend ma il CEO Luca De Meo durante l'evento ha utilizzato per lei un nome molto evocativo nella storia della losanga Twingo E così come è stato per il modello del 1993 anche la nuova Twingo ha l'obiettivo di rivoluzionare il segmento A È vero, si tratta di un prototipo ma osservando la carrozzeria tondeggiante e le forme bombate sembra di avere di fronte davvero l'originale in salsa 4.0 E a proposito di ispirazione il buon De Meo ha citato le keycar giapponesi Leggere e poco inquinanti come vuole essere la nuova Twingo Un approccio green che si traduce in numeri interessanti consumi di 10 kWh ogni 100 km 75% di life cycle di CO2 emesse rispetto alla media delle termiche europee vendute quest'anno e minor consumo di materie prime grazie alle dimensioni appunto compatte Abbondano pure materiali riciclati e quelli riciclabili Oltre quindi all'appena citato dato di consumo però non sappiamo granché sulla batteria a parte che la fornitura di accumulatori sarà litio-ferro-fosfato e prevederà accordi con la cinese AESC e con la start-up francese Verkor La nuova Twingo sarà la prima Renault elettrica a supportare la tecnologia Vehicle to Grid e cosa significa? Beh, poter collegare il veicolo alla rete energetica come se fosse una batteria di accumulo e sarà capace di restituire energia all'infrastruttura quando verrà prodotta in eccesso L'auto tra l'altro è stata concepita come un SDV Software Defined Vehicle quindi con un processo progettuale costruttivo più efficiente e al contempo meno costoso rispetto a quello hardware centrico Il vantaggio della soluzione software based è rendere aggiornabile la vettura negli anni semplicemente over the air e ovviamente questo fa felice anche la casa che può continuare a guadagnare dall'assistenza post vendita Ci hanno visto lungo i francesi Vabbè, veniamo al dunque Quanto sarà economica la piccola elettrica di Renault? Direi molto economica considerati i prezzi odierni La base di partenza rimarrà sotto quota 20.000 euro Niente male, quindi Considerando che l'attuale Twingle Electric è prezzata poco sopra i 24.000 di listino Sarà prodotta in Europa e potrà essere acquistata anche con un canone mensile di 100 euro per rientrare nel leasing sociale con cui in Francia vogliono incentivare la vendita delle elettriche economiche massimo 25.000 euro di listino Alle fasce quindi meno abbienti della popolazione sarà più facile andare ad acquistare questo genere di auto Da Ampere ragazzi mi aspetto veramente grandissime cose Dalla nuova Twingo anche Meglio lei o la Citroen EC3? Fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questa Twingo e chissà anche magari della Citroen EC3 Voglio proprio saperlo Ciao ragazzi, a presto!